Contagi in aumento in Sicilia per quanto riguarda il Covid. Dai dati rilevanti dal DASO i casi arrivano al più 23,56%. A rischiare maggiormente sono gli adolescenti, gli over 60. Nella ultima settimana di settembre l'impennata dell'incidenza del tasso dei positivi ha fatto toccare quota 8.000 casi in più in Sicilia. Sebbene con una riduzione dei casi che necessitano di ospedalizzazione si vedono tre città superare la media regionale, ovvero Siracusa, Messina e Catania che superano il dato dei 106 casi su 100.000 abitanti rispettivamente con 207, 239 e 191 casi. Ad essere colpiti in questa nuova ondata del virus sono le persone tra gli 11 e 13 anni e tra i 60 e 79 anni. Dal 13 luglio è partita la campagna vaccinale per la quarta dose, per gli over 60 e per le persone ad elevata fragilità over 12 anni. purché sia stato superato l'intervallo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall'ultima infezione successiva a richiamo. Il Ministero della Salute ha autorizzato la somministrazione del booster dal 7 settembre per quanto riguarda i vaccini mRNA, bivalenti original e Omicron BA, agli over 60, alle persone di elevata fragilità e alle fasce d'età over 12 in attesa della prima dose di booster, includendo anche gli operatori sanitari o aspiti operatori delle RSA, ovvero delle residenze per anziani e anche per 100 donne in gravidanza. Dal 23 settembre è autorizzato anche l'utilizzo di vaccini mRNA per la quarta dose su richiesta e a tutti i soggetti over 12 anni che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni.